numero 5 piumino in microfibra di poliestere adatto a tutte le stagioni la microfibra è un materiale termoregolante pertanto il piumino può essere utilizzato tranquillamente anche in primavera estate ed autunno questo articolo è anallergico e traspirante molto soffice al il piumino è bicolore ed è disponibile nei colori malva e grigio perla o blu e grigio perla misura 155 cm per 200 se ti interessa questo articolo trovi i link in descrizione numero 4 piumone per letto singolo realizzato in microfibra sintetica misura 135 cm per 200 disponibile in diverse misure l'ottima qualità garantisce un calore assoluto e allo stesso tempo leggerezza l'elaborata trapuntatura garantisce una distribuzione uniforme del materiale di riempimento comfort assicurato durante il sonno e perfetto bilanciamento termico lavabile in lavatrice a basse temperature e adatto all'asciugatrice trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 questo piumino 4 stagioni è stato progettato per essere usato tutto l'anno composto da due piumini indipendenti uniti da appositi bottoni a pressione che possono essere usati insieme o separatamente un piumino leggero imbottito da 90 grammi e l'altro più pesante da 220 grammi il piumino offre un'incredibile e piacevole morbidezza al tatto grazie al trattamento ecologico con aloe vera il tessuto in microfibra e la soffice imbottitura anallergica sono caratterizzate da un accurato trattamento antibatterico in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 2 questo piumino d'oca per letto singolo misura 155 centimetri per 200 ideale per le fredde notti invernali la fodera esterna è realizzata in puro cotone l'imbottitura è al 100 per cento in piuma le dimensioni generose la trapuntatura quadra da ben 34 centimetri che impedisce alle piume di fuoriuscire fanno di questo piumino un articolo qualitativamente superiore e durevole nel tempo lavabile a 40 gradi con detergenti neutri trattamento delle piume lavate e sterilizzate secondo la normativa se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 ottimo piumone invernale per letto singolo in tinta unita realizzato in piuma il rivestimento è in tessuto di puro cotone a tenuta piuma adatto a stanze con temperatura tra i 16 e i 20 gradi lavabile in lavatrice a 30 gradi misura 155 centimetri per 200 e si adatta a tutti i copri piumini la distribuzione ottimale della piuma garantisce un calore omogeneo confezionato in una borsa con manico puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione grazie a tutti